La commissione bilancio che lei presiede, Salvatore Scerra, si dovrà occupare dell'assesura di un regolamento comunale per disciplinare l'uso e la destinazione delle risorse economiche che sono generate dall'estrazione petrolifera nel territorio di Gela. Quali saranno le linee guida che terrete presenti per stilare appunto queste regole? Sì, inizieremo l'iter per regolamentarne l'uso garantendo i criteri di legittimità, legalità e soprattutto trasparenza. La commissione ha il compito di comunicare con la città e quindi informare la città come sono state spese prima queste somme e soprattutto come verranno spese e la qualità della spesa. Avete già presente ben chiaro il quadro relativo al passato o dovrà essere avviato intanto uno studio di approfondimento su ciò che è stato per poi capire come bisognerà orientarsi per il futuro? Diciamo che ho dato un'occhiata a dei regolamenti che già sono vigenti in altre città. Comunque avvieremo la prima consultazione con l'amministrazione comunale per capire come sono state spese in passato. Quindi incontreremo pure il dirigente De Petro e poi inizieremo la discussione con la cittadinanza. Per avviare questo iter che sembra essere abbastanza complesso, chiedete la collaborazione di tutte le parti politiche. Sì, infatti questa è una priorità che abbiamo discusso in commissione. Abbiamo detto che oltre a sentire la parte politica presente nei gruppi consigliari sentiremo pure quelli extra consigliari, quindi tutte le forze politiche presenti in città ma soprattutto la società civile che in questo momento soffre di questa grande crisi economica e quindi cercare di capire come è meglio far sviluppare queste somme delle royalties. Secondo lei quali sarebbero le priorità da affrontare? Cioè queste somme come andrebbero diligentemente impegnate nell'immediatezza? A parte già c'è una normativa regionale che è l'irregolamento e noi possiamo comunque scendere nei dettagli ed essere più precisi ma la commissione bilancio da me preseduta innanzitutto vuole intervenire sulla riqualificazione urbana e servizi sociali soprattutto perché diciamo che c'è una grande carenza di somme per cercare di coprire tutte le esigenze dei servizi sociali e soprattutto le grandi opere che mancano in questa città.